Torniamo in diretta con Natale con i tuoi. Questo spazio nella seconda parte del programma lo abbiamo sempre dedicato alle interviste e anche oggi vogliamo accogliere un ospite gradito in mezzo a noi. E accogliamo il direttore di Padre Pio TV Stefano Campanella. Grazie Stefano per essere qui con noi per quest'ultima puntata. Vogliamo subito chiederti come nasce l'idea che ormai da quasi un anno portate avanti di inserire nel palinzesto un programma non solo dedicato ai giovani ma condotto e realizzato da loro? È un'idea di Fran Nicola che oltre ad essere il responsabile principale della nostra tv è anche componente della pastorale giovanile provinciale e responsabile della pastorale giovanile del santuario. E chiaramente Fran Nicola in virtù anche di questa sua sensibilità ha colto il fatto che in questi luoghi il giovane Padre Pio da Pietrelcina radunava tante giovani anche acculturate di San Giovanni Rotondo. Molte erano insegnanti elementari che per l'epoca era un grande titolo di istruzione e una grande preparazione alle spalle caratterizzava poi la loro vita quotidiana e anche la loro sensibilità di fede. E qui faceva delle adunanze che all'inizio erano bisettimanali poi diventarono settimanali e poi purtroppo quando sono cominciate ad arrivare le grandi folle Padre Pio ha dovuto rinunciare. Però ecco anche Padre Pio aveva questa sensibilità verso i giovani. Ecco perché una televisione che porta il nome di Padre Pio non poteva non evangelizzare anche i giovani. Fermo restando che gli altri programmi sono diciamo al centro dell'attenzione delle persone adulte e anziane era necessario creare uno spazio per i giovani fatto da giovani che attirasse i giovani alla fede. E oggi ce n'è proprio tanto bisogno. Stefano, in questi mesi noi abbiamo imparato a conoscere Padre Pio grazie ai servizi ma anche a questi luoghi che parlano di lui. Come si fa a spiegare ai giovani di oggi presi molto spesso solo dalle cose materiali chi era Padre Pio? E' vero che i giovani sono presi molto spesso dalle cose materiali però quando i giovani vengono a contatto con delle proposte di vita autentiche, radicali che vanno fino in fondo, penso per esempio al tema dell'ambiente che oggi va molto di moda, vengono attratti e si spendono alle volte anche in maniera significativa. Quindi i giovani forse oggi seguono l'effimero perché è la proposta che più largamente i nostri mezzi di comunicazione offrono, ma quando vengono incontro con una proposta di autenticità di vita che dia loro degli ideali, che dia loro dei motivi per impegnarsi, per darsi da fare, molte volte non dicono di no, anzi si entusiasmano e seguono queste proposte. Padre Pio è stato un uomo veramente in grado di esprimere con la sua vita l'autenticità della fede. Il processo di beatificazione ha definito che ha vissuto tutte le virtù cristiane in grado eroico, è stato un eroe della fede. Ai giovani gli eroi creano un certo fascino nella mente, come ai giovani del passato e anche ai giovani di oggi. Se i giovani di oggi scoprissero il vero Padre Pio, togliendo quelle etichette che coloro che non lo conoscono e che scrivono di lui senza conoscerlo gli hanno dato, Se i giovani di oggi conoscessero il vero Padre Pio, veramente sarebbero affascinati e sarebbero attratti dalla sua figura, tanto da seguirlo in quello che è possibile, soprattutto in un'autenticità di vita. Stefano, in questi due anni di emergenza Covid tante cose sono cambiate. Ti chiedo come è cambiato anche il modo di comunicare, soprattutto attraverso i media, e come Padre Pio TV è stato vicino a coloro che erano abituati a frequentare il santuario con tanti pellegrinaggi. Padre Pio TV ha svolto un ruolo di supplenza in questo periodo, soprattutto durante la prima ondata della pandemia, quando era vietato persino partecipare alle celebrazioni eucaristiche. E quindi l'unico incontro fra il Signore che ogni volta torna a farsi presente nelle specie eucaristiche e i fedeli era rappresentato proprio da questo mezzo che è la televisione. E noi, Padre Pio TV, siamo stati l'unica emettente televisiva, fra laiche e cattoliche, a garantire ogni giorno tre celebrazioni eucaristiche, due rosari, quindi un'offerta di preghiera e un'offerta di incontro col Signore che nessun altro è stato in grado di dare ai fedeli. E questo è stato premiante, tanto è vero che abbiamo avuto degli ascolti record eccezionali, soprattutto, ripeto, durante questa prima fase, quando i fedeli, sentendosi privati dell'incontro con il Signore, hanno apprezzato ancora di più quello che magari non riuscivano ad apprezzare quando ce l'avevano sempre a portata di mano. E spero che comunque questo abbia fatto crescere la fama di incontro col Signore nella Santa Messa e spero che questo possa servire a coloro che purtroppo non sono in grado di alzarsi da un letto, penso agli ammalati, penso agli anziani, penso a coloro che sono rinchiusi in una casa di riposo. Ecco, offrire anche a loro la possibilità di continuare questo incontro quotidiano è davvero un grande compito e una grande missione che dobbiamo continuare a fare. Ora, durante la pandemia, quando è tutto più difficile, quando i rapporti sono rallentati, quando le possibilità di movimento sono ridotte, ma anche dopo per coloro che non hanno proprio la possibilità fisica di venire in chiesa. Approfittiamo della tua presenza qui perché vogliamo ringraziare te, Fran Nicola Monopoli e tutto lo staffo di Padre Pio TV per averci fatto vivere questa esperienza e per averci accinto nella vostra famiglia. Grazie. Sono io che ringrazio voi della vostra disponibilità per esservi messi in gioco. Ecco, voi siete il classico esempio dei giovani che quando il Signore chiama per un servizio qualsiasi, questo è un servizio, i giovani sono in grado di cogliere la valenza di questa proposta e di mettersi in gioco. Quindi grazie non soltanto per quello che avete fatto, ma perché col vostro comportamento siete un esempio per tanti giovani che ci seguono da casa.